bene avete preso il caffè adesso vi aspetta un'altra mezz'ora sempre in compagnia di giulia di maio e debora carletti qui presente per parlare non solo di astrologia ma più ancora più nello specifico di questo però è un argomento tabù è un po tabù parliamo di cartomanzia con un vero cartomante ovviamente perché vuoi parlarne tu no perché io sono diciamo che io sono molto attratto a questi argomenti come dicevamo prima però rimango sempre un po sulle mie perché ho curiosità ma sono neanche scettica diciamo che ho paura l'ha detto e allora parliamo proprio di questa paura e come smascherarla con alessio serafini buongiorno alessio buongiorno a tutti e tutti i telespettatori di radio gusano e anche a voi ovviamente grazie buongiorno allora di gusano italia tv perché la radio anche grazie per averlo ricordato ci potete ascoltare sia in radio che in tv benissimo alessio allora raccontaci un po qual è l'origine della cartomanzia allora intanto bisogna definire cartomanzia che cos'è la cartomanzia è un'arte divinatoria in grado di dare dei consigli o prevedere il futuro ma l'origine più che della cartomanzia direi dei tarocchi perché i tarocchi sono proprio lo strumento del cartomante lo strumento quello più profondo ovviamente no poi si possono usare anche altri tipi di mazzi di carte però i tarocchi hanno un'origine antichissima che parte dal medioevo agli antichi egizi e poi questi simboli si sono diffusi fino in occidente questo ovviamente a distanza di decenni decenni e decenni quindi sono origini molto sono origini antiche però poi c'è anche questi simboli appartengono un po alla nostra vita poi andremo a capire il perché infatti spiegaci proprio cosa fa il cartomante allora il cartomante diciamo che dà in generale un consiglio sulla persona cioè quando una persona si rivolge a me in questo caso io attraverso l'utilizzo delle carte posso interpretare il futuro di quella della persona che mi contatta appunto ma non solo perché si può anche vedere un po il percorso evolutivo spirituale infatti anche qui c'è una differenza tra cartomanzia che è generica e la tarologia cioè l'arte di interpretare i tarocchi con un sistema più psicologico e più profondo che non ha nulla a che vedere con l'interpretazione del futuro quindi dipende perché a volte sì si possono vedere delle cose però io lo dico sempre come con l'astrologia la stessa cosa cioè gli astri e le carte indicano ma non determinano cioè l'indicazione è importante però è importante anche il famoso libero arbitrio perché è chiaro che sia una persona io dico conoscerai una persona molto presto poi la persona non esce di casa è chiaro che quella persona non conoscerà mai nessuno quindi è normale quindi non bisogna diventare vittime cioè questi strumenti sono indispensabili per avere soprattutto un consiglio questo è fondamentale ma non per avere insomma voglio dire bisogna andarci sempre un po' coi piedi di piumbo perché non devono essere strumenti condizionanti nella nostra vita quindi credo che anche in base poi alle nostre scelte personali cambino anche magari le letture successive giusto? assolutamente perché il destino in ognuno di noi come la vita è in continua mutazione in continuo mutamento quindi ci sono delle fasi della vita che noi attraversiamo e dei momenti dove attraversiamo altre fasi per cui è tutto un passaggio è tutto un continuo cambiamento una continua evoluzione e trasformazione spesso e volentieri quando una persona si rivolge a me vengono fuori alcuni tipi di carte poi a distanza di 3-4 mesi possono avere altre carte perché magari noi siamo come energie come tipo di energie come nostra predisposizione siamo diversi da mesi fa e quindi è tutto ripeto in continua evoluzione ma allora ti è mai capitato di incontrare una persona ad un mese e rincontrarla qualche mese dopo e rivedere invece le stesse carte come se nulla fosse cambiato? è mai successo nella vostra esperienza? assolutamente sì, è successo svariate volte perché magari la persona che si è rivolta a me in quel momento non è riuscita a trasformare alcune cose della propria vita perché ci vuole anche un po' di buona volontà e quindi è chiaro che nel suo percorso è rimasto tutto molto statico e in quel modo ovviamente sono uscite di nuovo, possono venire fuori di nuovo quelle determinate carte certo, certo ma il tuo è un lavoro, professione o è una passione, un hobby? è di famiglia poi? allora io avevo per hobby una mia bisnonna che leggeva le carte ma lo faceva così per hobby non per lavoro per me innanzitutto è una passione da quando avevo 15 anni per cui sono passati tanti anni poi con il tempo è diventata una professione vera e propria però insomma adesso mi occupo seriamente di astrologia e cartomanzia da più di 20 anni però all'inizio per me era una passione insomma le facevo così in famiglia, tra amici ma non è che divulgavo molto il mio sapere quindi astrologia e cartomanzia comunque vanno di pari passo? assolutamente sì il transito dei pianeti quindi l'interpretazione dell'oroscopo personale e l'interpretazione dei tarocchi vanno di pari passo sono diverse come discipline tecnicamente ma io le unisco sempre per dare un'interpretazione più veridiera possibile a chi mi interpella prima in apertura stavamo dicendo che io comunque per esempio ho paura di questo tema ma in particolare della cartomanzia ma non perché sia una vera e propria paura quanto perché magari non voglio sapere quello che mi può accadere più che altro per una paura poi di fissarmi su determinate cose quindi credo che magari ma sai Giulia qual è il discorso ti spiego faccio un discorso che ho fatto poco fa magari a volte nella vita ci si può trovare in dei momenti penso che anche a te sia successo di trovarti in un vivio in una scelta importante da fare magari le carte devono servire più che altro più che per prevedere il futuro per avere un consiglio ad esempio ho un'offerta di lavoro ho due offerte di lavoro quale strada secondo te può essere quella più valida per poter vincere ecco in quel caso sì però non deve essere ripeto un condizionamento questo assolutamente no quindi diciamo le persone che comunque vengono da te sono persone che si trovano soprattutto davanti a scelte diciamo da fare oppure magari anche in periodi più bui anche e soprattutto credo a livello amoroso sicuramente l'amore è sempre il motore di ricerca maggiore come lo è sempre stato e ovviamente le persone si rivolgono a me soprattutto per problemi sentimentali per scelte da fare oppure per problemi di tradimenti problemi di coppia relazioni in crisi o anche persone che si sentono molto sole e spesso si viene dal cartomante anche da me perché si ha bisogno anche di sfogare di parlare perché purtroppo al giorno d'oggi si parla molto poco e siamo sempre più chiusi verso noi stessi verso i telefoni verso ciò che è i telefoni, internet di certo questi strumenti per quanto siano validi però non hanno aiutato la socializzazione certo riesci a gestire il profilo di un tuo cliente anche online e non solo quindi in presenza fisica perché magari durante il covid molte persone si sono ritrovate a voler contattarti però non l'hai potuto fare dal vivo non hai potuto quindi sentire le sensazioni delle persone ciò che volevano realmente dirti magari con i gesti del corpo e non con la parola questo è vero Debora sicuramente c'è stato una il covid ha creato comunque un problema proprio perché è chiaro che l'impatto che c'è dal vivo non è mai come l'impatto telefonico o un videochiamata però sicuramente in quella fase difficile che c'è stata io ho aiutato tante persone che in quel momento si sentivano sole in crisi quindi comunque sono riuscito ugualmente a raccogliere le loro emozioni e le loro angosce, le loro ansie, le loro preoccupazioni anzi in quel momento c'è stato veramente ancora più bisogno di me certo, infatti questo periodo forse ha allontanato le persone da quella che è una vita reale ma anche perché visto il momento non si poteva fare altro però le avvicinate anche a persone che mai probabilmente si sarebbero avvicinate ad un mondo come quello della cartomanzia a farti leggere le carte io per esempio mi chiedo assolutamente sì nel momento in cui tu dovessi vedere qualcosa di veramente brutto in una lettura sei obbligato a dirlo, lo dici sempre oppure preferisci che il destino lasci il suo corso esatto, lasciare la persona al proprio destino allora se mi viene fatta una domanda molto mirata è chiaro che io devo proprio per onestà professionale dare una risposta però è chiaro che c'è modo e modo di dire le cose è chiaro, no? perché se io di fronte a me ho una persona depressa una persona che è comunque ansiosa io devo dire la verità però comunque devo un attimo limare e non essere troppo duro perché in quel momento possono anche verificarsi delle reazioni avverse da parte di quella persona e quindi devo comunque sempre comportarmi con molta diplomazia allora in apertura abbiamo visto delle immagini del nostro regista Matteo Lavoro che scorrevano e facevano vedere delle carte ecco proprio queste ad esempio una carta del genere quali sono i significati? che cosa? a parte la lettura che c'è scritto amore come riesci ad argomentarle? come riesci a trarre quelli che sono magari gli aspetti che potranno accadere a quel determinato cliente? perché tra l'altro io vorrei dire che so anche che le carte dipende dalla posizione giusto? se sono capovolte o dritte vero? allora questo dipende molto dalla persona perché ci sono diversi metodi di consultazione e a volte si possono leggere al dritto al rovescio anche soltanto al dritto non c'è in effetti una voglio dire non c'è in effetti un reale metodo ok? ecco ad esempio prendendo ecco c'è questa immagine di queste carte molto particolari anche questi sono i tarocchi ecco questa per dire è una croce dove vengono estratte cinque carte quattro carte più la carta centrale che è quella che dà proprio il risponso finale ecco in questo caso esatto se una persona mi dovesse chiedere se incontrerà un compagno o una compagna queste carte magari le facciamo rivedere la prima carta che è uscita ecco è l'eremita che in questo caso può rappresentare anche la solitudine va bene? quindi anche il momento che sta passando la ruota della fortuna la torre quindi probabilmente ha avuto questa persona un distacco da una persona in passato una delusione però la giustizia col carro possono portare un riequilibrio nella vita della persona però il carro consiglia in questo caso muoversi e non rimanere isolati ecco l'ho detto così in due parole però per far capire che bastano anche poche carte per dare una per dare un'interpretazione una lettura sì certo quindi in realtà non sta tanto nelle carte ma nella domanda che il cliente ti pone cioè ad esempio se te le pone sull'amore sul lavoro cioè non è una lettura casuale no assolutamente poi ogni carta ha talmente tanti significati che non si può interpretare solamente per un unico argomento cioè se mi chiedono dimmi pure dico ad ogni richiesta corrisponde una una carta una carta e poi le rimischi come funziona proprio il momento in cui la persona viene da te io praticamente tecnicamente funziona in questo modo io mischio le carte la persona le taglia va bene come quando si gioca a carte normalmente le taglia con la mano sinistra e poi in base alla domanda io faccio uno schema di lettura perché esistono diversi schemi ok quindi c'è la croce a cinque carte che avete visto poco fa poi ci sono anche anche soltanto tre carte faccio pescare alla persona oppure c'è la croce celtica ci sono il metodo anche a piramide ci sono diversi schemi di lettura quello che avete visto poco fa nell'immagine è uno dei tanti schemi che io faccio ma il cartomante in questo caso faccio un gioco di parole quale carte in regola deve avere per essere appunto un cartomante giusto e valido allora innanzitutto deve deve conoscere praticamente perché quando si fa una domanda si dà una risposta e più o meno chi ha una piccola infarinatura della cartomanzia può rispondere ma in realtà la bravura si vede da questo deve conoscere e interpretare il passato di una persona cioè deve capire alcuni accadimenti importanti va bene e poi via via si va verso il presente e il futuro ma la bravura si vede dalla capacità del cartomante nel vedere il passato di una persona quindi deve essere anche un po' sensitivo giusto? beh la sensitività importante d'altronde perché la cartomanzia è uno studio comunque quindi chiunque può comprare un libro sui tarocchi e studiarli e conoscerli la sensitività essere sensitivo e avere l'apertura del terzo occhio come dico io quello è qualcosa che si nasce non si diventa per cui è chiaro che l'esperienza la veggenza la sensitività possono ancora di più vedere ecco anche i particolari che le carte a volte non danno certo allora Alessio il tuo sito è veramente completo ci sono tantissime cose quindi partiamo da una cosa come la caffèumanzia che cos'è? a parte l'ho pronunciata bene caffèumanzia si caffèumanzia allora la caffèumanzia questa perché ci sono diversi tipi di divinazioni noi abbiamo parlato di cartomanzia anche un pochino di astrologia ma la caffèumanzia è la lettura dei fondi del caffè ok come consiste finito il caffè questo l'ho letto ovviamente si gira la tazzina la tazzina e si vede di caffè cioè caffè della macchinetta caffè al bar decaffeinato ginseng no diciamo che non diventa poi un bar ovviamente ma è il caffè che che si legge è il caffè turco quindi praticamente non italiano vedi quindi qual è il caffè turco per è un caffè molto lungo è un caffè che non è un caffè allora per noi non è un caffè ovviamente perché noi italiani ci piace bere il caffè americano è un caffè è un caffè molto lungo è un caffè molto lungo esatto e viene girato e poi in base al fondo vengono fuori dei simboli e lì si può dare un'interpretazione quindi sono dei simboli fissi diciamo divinazioni sì ok e questo per esempio nell'online come è possibile? come si può fare? in online non si può assolutamente fare la lettura dei fondi di caffè si fa esclusivamente di persona non si può fare online quindi in qualche modo questo settore è venuto cioè questa parte del lavoro che fai è venuta a mancare durante il covid durante il covid ma diciamo che la caffeomanzia la faccio qualche volta per le persone che sono curiose però in effetti non è la cosa principale di cui io mi occupo no 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 quindi però è chiaro che alcune tipi di divinazioni vanno fatte si possono fare anche online alcune esclusivamente di persona mentre tra te e te te le carte o il tuo oroscopo lo fai quotidianamente o lasci diciamo un po' un velo di mistero più che altro puoi farlo personalmente allora si possono fare anche personalmente le carte però è chiaro che in quel momento siccome tu sei a maggior ragione coinvolto devi cercare di distaccare la mente perché altrimenti le carte vengono falsate cioè praticamente vengono fuori un po' come vorrei che venissero ecco è diverso quindi te la giostri bisogna giostrarsela ancora meglio ok quindi è anche difficile sotto questo aspetto potersi io preferisco controllarmi i transiti dei pianeti onestamente vedere le posizioni di luna di venere di saturno ecco in quel caso però le carte proprio se mi dovessi ecco se ho un problema è difficile ma non perché non ci credo ma proprio perché può essere condizionante ok quindi ti autocondiziona vedere anche la tua situazione sotto questo punto di vista beh preferisco vederla astrologicamente certo ecco diciamo perché ha una valenza differente come ci spiegavano prima ma anche diciamo dei tratti proprio di geometria quindi che sono molto scientifici e non c'è la possibilità di lettura personale giusto? no perché l'astrologia è una scienza e soprattutto è proprio completamente diversa per cui lì i pianeti sono quelli i transiti planetari sono quelli è chiaro che non si può comunque tra virgolette barare se io mi dovessi fare le carte da solo è chiaro che insomma a meno che ripeto si possono fare ma devo essere talmente freddo e distaccato allora in quel caso io posso anche leggermene da solo però ripeto preferisco in questo caso vedere i pianeti e comunque io faccio sempre il consulto astrologico vuol dire quello è fondamentale beh quello diciamo delinea un po' in maniera generica l'aspetto caratteriale anche della persona le caratteristiche invece parlando della lettura del fuoco che cos'è e come viene diciamo fatta è infatti per i nostri telespettatori dobbiamo ricordarlo il tuo sito è veramente completo è veramente di tutto stiamo solo prendendo delle parti per capire meglio di cosa e di che cosa si occupa Alessio è certo è chiaro allora la lettura del fuoco anche questa è una lettura che va fatta personalmente e praticamente funziona in questo modo si prende un bracere dove con anche dell'ovatta dell'alcol va bene poi si si buttano dentro determinati erbe particolari e praticamente una volta che il fuoco si è acceso a seconda delle fiamme a seconda di come vengono fuori le fiamme si può interpretare il futuro di una persona è questo quindi che altro no io sono molto curiosa però per esempio questa cosa ma lo vedo anche dalle domande che mi state facendo no io sono anche curiosa di sapere dove hai imparato per esempio anche la lettura del fuoco è difficile comunque da apprendere beh al di là della tua bisnonna c'è uno studio dietro come ci raccontavi prima è molto autodidatta e poi devi essere anche un pochino sensitivo non è che tutte le persone nascono con questa dote c'è uno studio sicuramente bisogna anche studiare un minimo questo è normale un po' come il cantante che ha una bella voce ma comunque deve studiarla e deve approfondire anche quindi la stessa cosa vale premio lavoro delle cose le ho studiate anche per conto mio alcune cose mi sono state tramandate va bene da qualcuno è chiaro che poi c'è la sensitività quello è un fatto naturale però la lettura del fuoco è molto molto curiosa in effetti lo dico anch'io vabbè quindi avevo ragione mentre tornando alle carte che tipi di carte utilizzi sono che strumenti usi in generale per la lettura allora parlando di carte io uso principalmente i tarocchi i tarocchi sono un mazzo di carte composto da 78 carte che si dividono in 22 arcani maggiori e 56 arcani minori io solitamente uso i 22 maggiori questi qui che vedete ecco questo è un tarocco è il tarocco parzillese che è stato restaurato da Alejandro Jodorowsky che poi Jodorowsky è anche un regista una persona importante lui ha creato questo metodo di consultazione per vedere soprattutto la parte più profonda e psicologica di un individuo e questo è uno dei sistemi che ho aggiornato le carte sono queste ecco questi i tarocchi si parte dal matto e si termina con la carta del mondo che è quella finale poi ci sono anche altre carte per sapere sui tradimenti sui discorsi un po' più da non frivoli però quelle cose che vogliamo tutti sapere se una persona mi telefona oppure mi tradisce se è sincero in quel caso c'è un mazzo di carte che avete fatto vedere all'inizio che si chiama la Sibilla l'oracolo della Sibilla è un mazzo a parte che non c'entra nulla con i tarocchi sono mazzi completamente poi io ne ho molti comunque nel mio studio quindi esistono varie tipologie di mazzi si possono cambiare come ho detto ci sono i tarocchi le Sibille possono poi cambiano alcuni secondo dell'artista cambiano colori cambiano comunque gli aspetti ma comunque sono sempre tarocchi o Sibille insomma ecco queste sono delle carte molto belle se torniamo un attimo indietro questa quella è l'oracolo no no c'era un mazzo quella prima 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 eccole eccole qua queste sono i tarocchi di Osho queste sono carte molto profonde e spirituali che danno proprio il consiglio per come come comportarci in una determinata situazione certo certo beh Osho è come la tavola Osho O-S-H-O Osho Ragginish beh comunque è un tema molto molto grande quello delle carte però è collegato anche a quello che parlavamo anche prima con Ginni dell'oroscopo ci sono c'è una differenza tra oroscopo generale come abbiamo detto anche lei e oroscopo specifico personale allora c'è una differenza perché l'oroscopo generale che io faccio tutte le settimane poi si può vedere anche su youtube è l'oroscopo praticamente dei segni giornali bene quindi dall'ariete fino a di pesci però sono oroscopi generici perché è chiaro che non è che tutti gli arieti hanno lo stesso futuro vivono la stessa giornata o la stessa settimana e non tutti poi hanno quelle determinate caratteristiche invece l'oroscopo personale è l'oroscopo che si redige attraverso un tema natale una carta astrale e si può interpretare in base alla data di nascita all'orario di nascita al luogo e lì si fa una cosa seria ecco quindi si interpreta i pianeti si vedono i periodi favorevoli contrari quindi è tutto molto più approfondito è chiaro allora Alessio noi purtroppo siamo in chiusura però vogliamo ricordare ai nostri telespettatori dove possono trovarti allora innanzitutto come avete già descritto voi vi ringrazio il mio sito internet che è www.alessiocartomante.it poi su tutte le piattaforme social su youtube alessiocartomanteastrologo su facebook alessiocartomanteastrologo e tarologo e su instagram alessiotv va bene allora grazie per essere stato qui con noi e aver descritto questo mondo in così poco tempo ma così in maniera dettagliata grazie Alessio grazie grazie mille a voi buona giornata grazie buona giornata a presto bene ecco sì abbiamo capito beh non capito benissimo perché ovviamente il mondo come abbiamo già descritto è veramente veramente ampio è veramente vasto quindi non basterà e non sarebbe bastata comunque un'ora noi vi ringraziamo per essere stati comunque qui con noi in compagnia di questa fantastica Giulia e e di Deborah Carletti quindi di un leo no scusami di un leone e di uno scorpione eh sì bravo così volevo proprio dire hai visto ringraziamo in cabina di regia questa mattina qui con noi a mattina con noi Matteo Lavoro e vi auguriamo una buona giornata ciao a tutti a presto a presto a presto a presto